buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 14 maggio 2024 e si festeggia un apostolo un discepolo anzi prima un discepolo e poi un apostolo lo vediamo qui nella grafica e san mattia san mattia era uno dei 70 discepoli di gesù che però prese posto nell'annovero degli apostoli quando giuda se ne andò quando giuda dopo quello che aveva fatto se ne andò e quindi fu nella cenacolo durante la pentecoste pentecoste che si festeggerà domenica prossima dopo che domenica scorsa si è festeggiata l'ascensione di gesù e mattia mattia predicò il vangelo soprattutto in etiopia dedicò la sua vita poi alla diffusione della parola di gesù finché non fu martirizzato a sebastopoli fu decapitato e ora le sue reliquie riposano nella chiesa di treviri in germania e parte anche nella chiesa di santa maria maggiore a roma quindi un santo veramente eletto dei primi anni diciamo così del cristianesimo passiamo ora alle previsioni del tempo lieve pioggia ieri sera il tempo si sta rassiarenando ci sarà un tempo stabile al mattino però qualcosa potrebbe cambiare anche nel pomeriggio a ridosso dei rilievi con possibilità di rovesci i venti sono tesi da sud est nelle nelle coste mentre nell'entroterra da ovest e temperature nella provincia di pesaro 15 la minima 21 la massima materata 16 e 25 a fermo 16 e 23 a ascoli piceno 15 24 insomma cambia poco siamo a una temperatura estiva gradevole ancora quindi una temperatura ideale questo per quanto riguarda le previsioni del tempo e diciamo anche che il sole è sorto alle 5 43 questa mattina e tramonterà alle 20 e 23 le giornate continuano ad allungarsi ora apriamo i giornali partiamo oggi dal corriere adriatico sulla pagina di fano ed ecco un articolo che riguarda una denuncia che è scaturita dal quartiere di san lazzaro qualche giorno fa in merito ad un problema che grava su alcuni inquilini anzi siamo qui su alcuni proprietari di casa che hanno riscattato il loro alloggio dall'erape si tratta delle case popolari di via del ponte che cosa è accaduto è accaduto che essendo l'impianto di riscaldamento centralizzato e alcuni inquilini non pagando le quote condominali l'amministratore è stato costretto a ridurre le ore di riscaldamento a tutti sia quelli che pagavano che a quelli non pagavano ovviamente hanno protestato quelli che pagavano dicendo che era loro diritto avere un riscaldamento per tutte le ore concesse dall'amministrazione comunale nel comune di fano e se c'erano delle difficoltà avrebbe dovuto sovraintendere insomma farsene carico il proprietario e in questo caso era l'erape l'erape non è intervenuta e ora che cosa accade accade che questo argomento viene portato in regione in consiglio regionale dalla capogruppo del movimento 5 stelle marta ruggeri che ha interpellato sia il presidente acquaroli che l'assessore competente stefano guzzi cercando di indurre l'erape a farsi carico di questo problema perché non è giusto che i cittadini che sono in regola con i pagamenti abbiano un servizio ridotto ecco perché la regione deve sollecitare l'erape via del ponte non deve ripetersi per il prossimo anno bollette non pagate tutto il condominio al freddo ruggeri interroga acquaroli questo è l'articolo di apertura ed ora vediamo invece questo articolo di apertura della seconda pagina vediamo come ieri è stato presentato nuovo soggetto politico nella città di fano si tratta di una nuova lista civica che si chiama fano continua a crescere e si pone in continuità con quello che ha fatto la giunta seri sostenendo la candidatura a sindaco di cristian fanesi quindi si pone nell'ottica del centro-sinistra è una lista nuova di zecca perché veramente sono dei cittadini che per la prima volta quasi nella totalità si presentano alla politica e sono intenzionati veramente a farsi da tramite tra tutti i cittadini e l'amministrazione comunale portando le esigenze concrete della popolazione nel tavolo appunto del comune tutte meno una perché c'è una persona che è molto nota ha ricoperto il ruolo di assessore ai lavori pubblici della viabilità del comune di fano e poi si è dimessa ed è Fabiola Tonelli Fabiola Tonelli torna alla politica ha detto non posso restare lontano ho sentito a un certo momento l'esigenza di tornare perché vedo che ancora c'è molto da fare soprattutto in tema di viabilità Fabiola Tonelli è una appassionata della mobilità dolce ha realizzato diverse piste ciclabili ha dovuto anche così eliminare dei parcheggi suscitando un po' le proteste della popolazione ma alla fine poi un po' la situazione si è normalizzata e ora quello di l'estensione della rete di piste ciclabili rientra proprio negli obiettivi di questa nuova lista civica Fano continua a crescere poi ci sono altri obiettivi ovviamente l'integrazione la sanità la cultura sono diversi obiettivi che poi sono stati enunciati e sono appunto rilevati in questo articolo e poi a fondo pagina invece si parla della pista ciclabile del metauro questa pista ciclabile che continua a sollevare delle contestazioni uno c'è chi la vuole come la regione in un itinerario un po' articolato discosto dai binari che invece la vuole come il comitato della ciclovia del metauro accanto alla ferrovia Fano Urbino tracciato a fianco dei binari è l'unica soluzione per il comitato sulla ferrovia potrebbe passare il bus transit veramente sarebbe veramente una bella ferrovia di superficie una specie di piccola metropolitana che potrebbe condurre turisti studenti viaggiatori insomma lungo la valle del metauro che ha un bellissimo contesto ambientale tiriamo la pagina e vediamo siamo a Fossombrone a Fossombrone ancora si evidenzia il successo ottenuto dall'ultima manifestazione il trionfo del carnevale la contrada di San Giorgio ha vinto il paglio del cardinale in 8.000 pensato 8.000 persone alla conclusione della settimana da capitale nazionale della cultura in simbiosi con Pesaro arriva Ricci e gioca anche Ricci gioca lo vediamo qui in questa fotografia non so se riuscite a vederla bene è il gioco della noce arriva una noce in pendenza e chi ha un martello deve riuscire a schiacciarla mentre questa passa velocemente il giornale non dice se Ricci è riuscito a schiacciare la noce ma comunque qualche colpo l'ha messo a segno e lo vedremo poi quello che è accaduto in Ancona dove Ricci ha inaugurato la sede per le sue prossime elezioni in Europa nel Parlamento europeo tornano i rifiuti nell'ex discarica di barchi chiusa tempo fa chiusa addirittura nel 1989 recentemente quindi vediamo in questa fotografia sono stati rinvenuti dei rifiuti abusivi sparsi nel territorio conferimenti abusivi crea un allarme tra i residenti del posto. Passiamo ad Acqualagna ad Acqualagna c'è la sfida tra due ex sindacalisti che aspirano al ruolo di sindaco della capitale del Tartufo e chi sono? Sono Laura Biagiotti e Pierluigi Grassi i temi prioritari delle loro liste. Bene Laura Biagiotti laureata in giurisprudenza per 17 anni è stata al timone dell'ordine degli infermieri all'ospedale San Salvatore di Pesaro ed è anche dirigente sindacale la quale guida la lista prospettiva futura. Questa è la lista civica di Laura Biagiotti. L'altra lista si chiama Uniti per Acqualagna ed è del sociologo ex consigliere comunale e anche ex assessore è stato negli anni 80 90 e 2000 anche sindacalista Will Pierluigi Grassi ambe due. Ambe due sono animati da una profonda passione per il territorio e considerano fondamentale l'ascolto della cittadinanza. Questi sono un po' i temi che essi stessi propugnano ed evidenziano. Passiamo a Senigallia. Pronto soccorso l'attacca è un'incognita e quando arriva il personale in più? Questo è un interrogativo che si proporrebbe un po' per tutte le località non solo per Senigallia ma si proporrebbe anche per Pesaro e per Fano e poi anche per l'entroterra. I consiglieri del Partito Democratico e dei Fratelli d'Italia vanno all'attacco. Raduno Arli attese 50.000 persone ma se c'è un'emergenza che cosa accade al pronto soccorso di Senigallia? Anche lì ci sono problemi di personale. Rischia di essere un'altra estate senza attacco per il pronto soccorso perché i lavori di adeguamento strutturali dei locali non sono ancora partiti e qui dopo non c'è più il tempo di completarli. Nel momento in cui poi si realizzano queste grandi manifestazioni e a Senigallia ci sono manifestazioni come il Summer Jamboree e anche come il raduno delle Arley che attirano tantissime tantissime persone. Quando c'è ammassamento, c'è raduno di grande entità qualcosa può sempre accadere ed è bene preventivare tutte le operazioni perché poi alla fine quando arriva l'emergenza è difficile sopperirla e venirla incontro. Ecco perché ora si evidenzia questo problema perché si corra ai ripari al più presto. E poi vediamo come la farmacia estiva finisca a carte bollate, c'è uno scontro al TAR tra un'altra farmacia che ha avanzato un ricorso, aprirà comunque domani la farmacia estiva sulle lungomare a Lighieri grazie ad una ordinanza, è intervenuto in questo caso il Consiglio di Stato che ha emesso ieri questa ordinanza. Senza questo provvedimento sarebbe stata a rischio tutto il servizio sul lungomare. C'è infatti un contizioso che va avanti da tre anni e a presentarlo è stata la farmacia ACS di Piazza della Libertà contro la succursale estiva Manocchi Carloni che è stata istituita da diversi anni per fornire un servizio adeguato sul lungomare. Sappiamo anche il lungomare come importante per tanti piccoli e anche non tanto piccoli infortuni che possono accadere in spiaggia e anche sulla battigia. Vediamo qualche notizia di Pesaro. Eccola qua. A Pesaro si parla di cantieri, si parla di palazzi in fase di ristrutturazione, cittadella della cultura per tutto l'anno, i palazzi impacchettati per lo sprint dei cantieri. Sono palazzi importanti, quelli oggetto di lavori, di ristrutturazione che vengono fatti proprio in questi giorni. Sono Palazzo Almerici, Palazzo Olivieri e Ricci, un trittico di edifici storici coinvolti nei lavori. Intanto è stato concluso l'intervento per il rifacimento del tetto alla sede della biblioteca oliveriana. Dunque tutta una serie di lavori che recuperano questi grandi palazzi che hanno reso una città importante, Pesaro nel 1800, sede anche abitazione di grandi personaggi che hanno fatto la cultura italiana. Cittadella della cultura a tutto tondo. Il cascone a piazzale d'annunzio è ora di spostarlo. Lo afferma l'architetto Leoni che dice che al mare è opportuno realizzare invece un percorso di sculture. È tempo di ripensare al cascone di Valentino Rossi e di trovargli una diversa collocazione più funzionale e idonea. È questa la proposta che anima il dibattito nel capoluogo. E poi vediamo come per quanto riguarda la stagione estiva c'è stato un primo stop alla musica fracassonea, alla movida invadente. Che cosa è accaduto? È accaduto che in seguito a dei controlli che sono stati fatti dagli organi inquirenti sono stati inflitti sette giorni di chiusura all'ex Buddha dopo una serie di controlli da parte della polizia locale e dall'ARPAM che è abilitata ad eseguire appunto i controlli sui decibel che vengono emessi dagli impianti sonori. La stagione dunque è appena agli inizi, la movida pure, ma già arrivano i primi provvedimenti. Ebbene che cosa è accaduto? è accaduto che nelle mire degli inquirenti soprattutto è stato trovato in difetto il si chiama Buddha Pub che da poco ha preso il nome di Monkey Pub Narghile e Cocktails in Viale Trieste, zona di Ponente. Il provvedimento del comune viene dopo i controlli della polizia effettuati in più circostanze che hanno riscontrato la violazione delle norme che disciplinano l'inquinamento sonoro, l'inquinamento musicale che bisogna trovare un equilibrio tra chi vuole fare festa, vuole divertirsi e chi vuole invece riposare perché immagina una vacanza di tutto riposo. Adesso ancora siamo ancora presto, siamo in bassa stagione ma quando poi arriveranno masse di turisti nell'alta stagione questo equilibrio è importante mantenerlo. E a proposito di turismo vediamo che oggi a Roma si svolge l'attesa cerimonia della consegna delle bandiere blu. Ovviamente Pesaro, Fano e altre località del nostro territorio sono state invitate a Roma, il che vuol dire che la bandiera blu verrà rinnovata anche nella nostra riviera. Bandiere blu il giorno dell'annuncio, convocate a Roma le quattro città di mare e sono Pesaro, Fano, Gabice e Marotta. Toccherà poi vedere a quali tratti di litorale verrà assegnata perché ci sono dei tratti a cui i comuni non hanno fatto nemmeno domanda perché sanno che quei tratti ancora non sono in sintonia con i parametri richiesti per la concessione della bandiera blu, un simbolo che viene dato dalla FE, che è una federazione europea per la tutela dell'ambiente ovviamente ma anche per la tutela dei turisti stessi e quindi per non incorrere poi dato che la cosa è incerta se non viene rilasciata per tre anni dopo non potrebbero fare domanda ecco perché in alcune zone come per esempio la spiaggia dell'Arzilla ancora la domanda non è stata fatta invece poi per gli altri tratti sì e fanno ovviamente come Pesaro si vantano di avere questo contrassegno che garantisce un mare pulito ma non solo anche servizi idonei al turismo. Europa il voto antisovranismo mette d'accordo tutti i candidati al confronto centodestra assente la CGL dibattito solo con chi ha dialogato. Ebbene questo è un convegno, un confronto promosso dalla CGL con i candidati locali al Parlamento europeo che si è svolto a Pesaro. Vediamo anche la pagina di Urbino dove per la candidatura del sindaco Gambini si è svolto un bagno di folla al teatro Sanzio dove è stato presentato il programma della coalizione di centrodestra. Per Gambini bagno di folla al teatro sono orgoglioso ha detto il sindaco di questa squadra e con lui sul palco tutti i candidati delle tre liste. Monaco spiega il nuovo status di capoluogo che ha reso ancora più importante la città di Urbino che è diventata capoluogo di provincia a tutti gli effetti e con tutti i servizi e questo è veramente importante. è un po' il nocciolo della questione, la sostanza stessa. Vediamo anche un'altra lista. L'obiettivo è una Urbino nuova, autentica e attraente, bene comune, schiera, 32 nomi non politici, l'età media sono 40 anni. Si è presentata domenica la lista civica Urbino bene comune, nata per portare avanti un programma concentrato tra benessere collettivo e pubblico interesse. 32 membri dell'età media di 40 anni si sono uniti nella visione strategica e prospettica di una Urbino nuova, autentica ed attraente. Così è stato detto. Ed ora mettiamo da parte il Corriere Adriatico e diamo un'occhiata invece al resto del Carlino. Un'apertura particolare, non si parla di politica, non si parla di cronaca, ma si parla di una reazione di alcune donne contro una pubblicità che viene definita da loro stesse ingannevole. Ingannevole lo spot anti-aborto che gira in questi giorni nelle Marche, così dicono appunto queste donne, che hanno attivato una raccolta di firme contro la pubblicità di Provita e Famiglia, che gira con dei camioncini dicendo nove biologi su dieci mi riconoscono come essere umano e tu? E qui c'è la figura di un bambino. Allora, le donne fanno differenza. Non è un embrione, ma è un bambino già formato e questo, secondo queste donne, costituirebbe la differenza. Ebbene, lasciamo questo problema a ciascuno alla propria coscienza. Vediamo le altre notizie. Qui c'è una signora invece che ha difficoltà nei movimenti, non può raggiungere il mare e vuole un servizio pubblico per poterlo fare. Non ha un reddito inferiore tanto da avere un'assistenza individuale, ma non riesce nemmeno a pagarsi un taxi. E quindi è in quello status medio che le crea difficoltà e chiede assistenza comunale. Per quanto riguarda invece la nuova piscina che è stata realizzata dalla Fondazione Carifano nei pressi dell'aeroporto e data in gestione all'amministrazione comunale, la quale a sua volta si è servita di altre associazioni, manca un trasporto efficiente. Innanzitutto ancora non è stata realizzata la ciclabile che dovrebbe consentire ai ragazzi in modo particolare di percorrere l'itinerario tra il centro storico e questa zona periferica. E poi il bus non passa. L'unica fermata è a 500 metri di distanza. E quindi questo è un male servizio che non si accorda con la forza di attrazione di questa struttura. E intanto la Dini-Salvalai che cosa fa? Resta il nodo amianto. La Dini-Salvalai ha un futuro incerto dopo l'apertura della nuova piscina. Questa struttura che per tanti anni è stata un po' il centro d'attrazione degli amanti del nuoto fanesi rimane deserta. Dopo la chiusura l'impianto appare abbandonato, afferma il giornale. E lancia appunto un grido di allarme. Ed ora passiamo alla cronaca. È ricca la cronaca nel resto del Carlino, nella giornata di oggi. Presa a pugni dal marito, i bimbi difendono la madre, eppure hanno solo pochissimi anni, 4 e 5 anni di fronte alla violenza del padre che era ubriaco in quel momento, che stava prendendo a pugni la mamma, si sono avventati contro e l'hanno graffiato. Ebbene, questo genitore ora è davanti al giudice e sta affrontando il processo. Si tratta di un 45enne residente a San Lorenzo. No, scusate, la 45enne è la donna, l'uomo ha 51 anni ed è residente a San Lorenzo in campo. È stato condannato a 22 mesi di carcere dopo aver patteggiato la pena per maltrattamenti in famiglia e lesioni. E' un altro caso a centropagina. Minacce sotto il balcone della ex, ti ammazzo, così un uomo ha reagito alla decisione della donna di interrompere la relazione. E' veramente poi tanti altri episodi di cronaca, ma a questo punto termina qui la nostra rassegna stampa e vi lascio alla lettura dei giornali. Intanto vi do appuntamento sempre alle 7 di domani. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie per l'ascolto e a risconto. Grazie per l'ascolto e a risconto. Grazie a tutti.